Ugo è un cavaleonte al passo coi tempi, che ama cambiare sempre, alla ricerca del meglio. Così come tutti i TGR e le radio della RAI, sono in alta qualità, per un'esperienza di visione a prova di futuro. Per ricevere tutti i TGR e i canali di RAI Radio, utilizza un decoder HD o 4K. La TV e la radio del futuro sono sul satellite con TVSAT. Preparati al meglio.